Ma innanzitutto diciamo che le criticità così espresse rappresentano meno dell'1%, mi sento di dire, in percentuale dei contenuti del nostro centro di documentazione, quindi hanno una rilevanza estremamente limitata. Poi certamente il gruppo di storici, la commissione che ha elaborato i contenuti della mostra, si confronterà con queste segnalazioni e vedremo come migliorare. Mi piace questo anello. Personalmente no, però trovo che sia assolutamente funzionale, nel senso che adesso chiunque passa sul ponte o davanti al monumento, guarda il monumento, vede l'annello, dice, ah toh, guarda, c'è qualcosa, e quindi gli viene voglia di andare a vedere cosa c'è sotto. A Orzi che intende fare un esposto in procura? Beh, è divertente che il sovrintendente alle belle arti di Venezia possa avere commesso un reato rispetto a un bene monumentale che è sotto la sua giurisdizione, mi sembra piuttosto comico, però se ritiene che sia giusto dare da lavorare ai giudici su questo tema, che lo faccia a un suo diritto, io trovo che sia un modo per sperperare denaro pubblico.